Alla 100 km dell'Isola Verde, Gilberto Simoni, al quale chiedo, si è approvato oggi il percorso o come lo trova? Beh sì, una prova del percorso è un po' una cosa strana, perché il percorso è questo, non abbiamo tante alternative, ma credo che sia anche particolare, il bello, no? È un percorso impegnativo, però credo che sia divertente. Chi va in bicicletta un po' cerca questi percorsi un po' faticosi, altrimenti insomma sarebbe meglio stare in spiaggia, no? Come pensa che sia la gara di domani, una bella gara? Beh io credo di sì, certo è una gara amatoriale, insomma ci saranno un po', c'è un gruppo che vorrà andare forte, è un gruppo che vorrà solo partecipare, perciò vedremo un po' una serie di sfide più altre o interne che per il pubblico, ma è lo spirito un po' di tutte queste manifestazioni. Io credo che i telespettatori vorranno un commento suo sull'Isola Verde. Per me era anche l'occasione per venire a fare un giro a Ischia, non c'ero mai stato, l'anno scorso c'era il Giro d'Italia e quest'anno sono arrivato io appunto su quella spinta, no? Per scoprire un posto nuovo, un bel posto d'Italia e anche per farmi un bel giro in bicicletta.